Sono da poco iniziati i lavori di manutenzione del sentiero della memoria di Berzodemo, situato all'interno del parco dell'Adamello. Un percorso di 5 chilometri che prende il via dall'area attrezzata di Bettolino e in circa tre ore di cammino conduce al DOS dell'ora, ripercorrendo un dracciato risalente alla Prima Guerra Mondiale. Un patrimonio storico, naturalistico e archeologico lungo il percorso. Si possono infatti ammirare alcuni manufatti militari, come grotte, postazioni d'artiglieri antiaerea, ma anche alcune incisioni rupestri. Il parco dell'Adamello adesso fa tutta una serie di interventi per cercare di tutelare il proprio territorio, ma non solo, soprattutto nell'ambito di andare a ripristinare quelli che sono i percorsi più belli che sono al suo interno. Per cui abbiamo ricercato tutta una serie di finanziamenti che in questo caso abbiamo messo a disposizione del comune di Berzodemo per andare a ripristinare, per andare a mettere un po' al meglio questo antico sentiero dal memoria. Ringraziamo il parco dell'Adamello e la comunità montana per questo intervento straordinario, perché davvero dopo tanti anni va bisogno di manutenzione su tutto il tracciato. Molto importante però vorrei anche sottolineare quanto annualmente fanno i volontari, penso agli alpini diversi, come tutti gli alpini nelle nostre sezioni, fanno una manutenzione ordinare. C'è il ripristino di un paio di muri a secco molto grandi, crollati, una serie di qualificate sul sentiero e poi è previsto anche di rimettere in ordine la segnaletica. Tutto avviene con il controllo della soprintendenza archeologica, perché questa è anche una zona di grandissimo interesse archeologico e quindi durante i lavori bisogna stare attenti perché non è escluso anche il rinvenimento di incisioni rupestri su questo percorso. Infine c'è un'ultima parte anche molto importante che sarà l'allargare l'habitat del tritone crestato all'interno della pozza di Loa, che è una delle cose che sicuramente il Parco dell'Adamello va a fare perché rientra nelle sue missioni. Un sentiero fruibile in ogni periodo dell'anno da ogni genere di turista, dalle famiglie agli esperti, compresi coloro che vi si avventurano in mountain bike. Parte dalla quota di 500 metri in località Bettolino e la percorre praticamente tutta fino alla località Loa, prendendo 700 metri di quota su questo percorso lungo circa 5 chilometri. Ha delle pendenze molto dolci che si possono prestare anche alla percorribilità da gente esperta anche in mountain bike.